Oh, eccomi qua. Eccomi qua per un altro speciale. Di cosa parliamo stavolta? Stavolta vorrei essere un... Cioè, non vorrei essere, ma mi viene ad essere un po' più serio, perché faccio veramente fatica, ci posso provare, ma faccio veramente fatica a trovare qualcosa di realmente così negativo in questa serie tv. Sì, parliamo di una serie tv. Di cosa parliamo? Parliamo di Doctor Who. E qui arriva subito un cuttana, cuttana, son Dio, cuttana, buah, il Doctor Who. Allora, anche qui nasce dall'infanzia, insomma, dall'infanzia e dall'adolescenza. Ricordo che ero piccolino e davano appunto Doctor Who, poi ho scoperto che lui era Baker, il quarto dottore, esattamente, ed era questa puntata ambientata, se non ricordo male, non so sicuro, nello spazio, con questo liquido nero all'ieno, insomma, mi ricordo che mi fece una paura incredibile per non parlare del sonoro. Vabbè, questa era la sigla che mi faceva una paura folle, cioè non mi faceva paura, era sinistra, era affascinante, era quel sinistro dark affascinante, così mi rimase stampato nella memoria. Andai avanti, con gli anni le passioni cambiarono, ma avevo sempre questo tarlo, lontano, ma c'era, era lì, Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who, mi appassionai al fandom, bla bla bla, Star Wars, insomma, costumi, eccetera, eccetera, cominciai ad andare alle convention e conosci, sono un po' stanco, qua dentro ci saranno 60.000 gradi, ma comunque, conobbi Federica Minguzzi che saluto tantissimo, fan di Doctor Who, gran tipa, troppo simpatica, troppo normale, in questo mondo, mai compreso di normale, ce ne sono pochi, e gli chiesi un po' di questo Doctor Who, visto che lei era espertissima, lei un po' mi racconta tutta la storia, è una serie televisiva che è nata nel 63, nel Guinness dei primati, per essere la serie tv più longeva della storia, perché, se non ricordo male, è iniziata nel 63, ha avuto un'interruzione nel 96 o 98, non ricordo per certezza, tra l'altro l'ultimo fu un film che ebbe poco successo, non so neanche se è un film per la tv, e poi ebbe uno stop fino al 2005, il 2005 è cominciata, diciamo, l'era moderna del Doctor Who, purtroppo in Italia non sono edite le vecchie serie, io, dici, ma com'è? Io l'ho vista in italiano, me lo ricordo bene, poi sempre Federica mi ha raccontato che, della stagione 4, ci sono solo 12-13 puntate in italiano, neanche tutta la stagione, che tradussero e mi fece, se non sbaglio, la Rai, non lo ricordo male, ma credo proprio la Rai. Che dire, quindi con questo tarlo mi disse questa cosa qui, cominciai a informarmi, però poi me lo dimenticavo, insomma, non ero deciso, finché vedi una clip su Facebook, una clip di YouTube, che vedi questa cosa dell'undicesimo dottore, Matt Smith, una puntata su Van Gogh, e piansi. Io sono un gran sensibilone, sicuramente, però mi commosse parecchio, cioè c'era questa puntata fantastica, non ve la sto a raccontare, ma veramente colpì le mie corde da sensibilone. E quindi boh, acquisto su Amazon, tra l'altro super in sconto, quindi presi tutte le stagioni, 2005, le prime, se non ricordo male, tutte le stagioni, sì, tutte le sette stagioni, ovvero nono dottore, decimo dottore, tre stagioni, undicesimo dottore, altre tre stagioni, più gli speciali. Ecco, una cosa molto importante, se qualcuno di voi si fa convincere da questa mia recensione di questo Doctor Who, è molto importante cercare la cronologia di tutto quello che è il mondo di Doctor Who, ce n'è una completa, è la prima che ho trovato e ogni volta che lo cercavo mi capitava sempre quella, perché ci sono, oltre ad esserci un sacco di spin-off, ci sono molti speciali, e gli speciali sono realmente, oltre ad essere molto belli, sono molto importanti per la storyline di tutta la serie, diciamo così, tra un cambio dottore e un altro, dopo vi spiegherò anche il perché, spesso viene fatto in questo speciale, che è un po' lo speciale natalizio, insomma, quando ci sono le festività, credo che abbiano fatto anche uno speciale pasquale, o giù di lì, non ricordo quell'eserstezza, comunque, solitamente fanno questi speciali durante le festività più importanti, e sono, oltre ad essere bellissimi, sono fondamentali per la cronologia, se li guardate, io purtroppo, questa cosa, l'avevo capita, ma avevo la fotta di guardarmi tutte le serie, e gli speciali non mi sono arrivati subito, mi sono arrivati dopo, li ho ottenuti successivamente, è stato un errore, a parmi un grosso errore, perché probabilmente me ne sarei goduta molto di più, quindi, se volete inoltrarvi in questo mondo, fate modo di avere tutte le puntate, tutti gli speciali cronologicamente, e poi guardatevelo dall'inizio alla fine, è appena uscita l'ottava stagione con Peter Capaldi, che è il dodicesimo dottore, ma in realtà è il tredicesimo, non vi dirò altro, ed è spettacolare, è una serie meravigliosa, è la fantascienza per Antonomasi, ripeto, non riesco a cercare, mi scoccia a trovargli dei lati negativi, perché sarebbe sbagliato, è un po' come un religioso trova dei difetti nella Bibbia, sono esagerato, però forse un po' così, nel senso che come amante di fantascienza, è fantascienza al 100%, totale, prende qualsiasi cosa, viaggi del tempo, astronavi, alieni, misteri terrestri, fantasmi, morte, quello che c'è dopo la morte, insomma, prende veramente tutto quello che è mistero e gli dà una risposta, e gli dà una risposta, logicamente, secondo la fantasia di questo Moffat, poi Russell T. Davis, prima che è stato iniziato, veramente spettacolare. Una cosa importante, un segnale di, non dico pericolo, ma di attenzione, la prima stagione della nuova era, dell'era moderna, chiamiamola così, con Christopher Eccleston, che non è altro che Malekith di Thor The Dark World, un attore inglese, secondo me, molto molto capace, però ha fatto solo una stagione, ha detto, io faccio una stagione, non voglio che mi sia dato questo ruolo a vita, e quindi è firmato solo per una, a differenza degli altri, che bene o male firmano sempre per tre. Dovete aspettare un po', perché io, l'esempio è mia moglie, mia moglie è molto standard per queste cose, nel senso positivo della parola, nel senso che cerca l'anima, il cuore, cioè nel senso, è action, non è action, neanche il cuore, sbagliate del cuore, insomma, deve trasmettere un'emozione di energia, ecco, risulta un po' cheap, forse, al di là che è stata fatta nel 2005, se non ricordo male, 2005 sì, è un po' cheap, è un po' effetti speciali, era una serie tv, era il reinizio di una serie che era caduta nel dimenticatoio, non l'avevano più prodotto perché non l'aveva più successo, quindi, insomma, era anche un po' una scommessa, e quindi lasciatevi andare, c'è una puntata fantastica con degli alieni fantastici, anche molti si fermano lì, sono gli alieni scoreggioni, non vi spiego perché, aspettate un po', andate oltre, finché non arriverete a una puntata fantastica, are you mommy, oh, tu sei mia mamma, una roba del genere, non ricordo nel dettaglio, e da lì, boom, lì partite, io, già mi piaceva prima, però stavo aspettando il botto, ecco lì, si è acceso il NOS, si è acceso il Turbo, e, boom, Dr. Wu è stato mio, totalmente, e poi si passa al decimo dottore, David Tennant, personaggio meraviglioso, io avevo visto in qualche intervista, non sapevo chi fosse, sapevo che aveva interpretato questo dottor Wu, e tra l'altro non sapevo di questa rigenerazione, apro una piccola parentesi, la rigenerazione non è altro che un escamotage trovato nei primi anni, quindi partiamo di 63-65, in cui il protagonista era malato, era un tipo un po' irrascibile, trova da dire con la produzione, un po' era malato, un po' trova sempre da dire, alla fine hanno, purtroppo ha mollato, ha lasciato, e non sapevano come fare, gli è venuta questa idea di dire, facciamo così, facciamo che muore, e si rigenera con un altro aspetto, quindi questi signori del tempo, perché il dottor Wu è un signore del tempo, hanno questa capacità, quando loro muoiono cambiano aspetto, cambiano persona, cambiano anche un po' carattere, hanno certi aspetti del loro carattere che rimangono fissi e sono fondamentali, ma altri cambiano, quindi questa cosa scoprirete che veramente è il cuore, è il motivo per cui si rigenerete questa serie fantastica. Dicevamo, David Tennant, il decimo dottore, forse il più famoso, forse il più amato, assolutamente, bellissima tutte le sue tre stagioni, bellissime anche le puntate un po' assurde, un po' bohemian, un po' fuori di culo totalmente, bellissimi gli speciali, tra l'altro ci sono anche delle special guest non indifferenti, in una c'è Kylie Minogue, tra l'altro tanto di cappello come attrice, sono rimasto decisamente a bocca aperta, una perché comunque non è una bellissima, due perché sa recitare e molto bene, ma molto, ma molto bene, dopo Russell T. Davis, scusatemi, dopo David Tennant è arrivato l'undicesimo dottore, Matt Smith, un ragazzo giovanissimo, immagino le critiche per i fan, gli Hovian, perché è un attore semisconosciuto, super giovane, in realtà io mi sono innamorato perdutamente anche del suo modo di essere dottore, quindi se uno mi dovesse chiedere qual è il tuo dottore preferito, io direi non c'è, io adoro ogni sfumatura di questo dottore e spero prima o poi che decidano di doppiare anche le altre stagioni, le prime stagioni perché è un tunnel da cui non si esce più. Ecco, Matt Smith probabilmente ha fatto parte della stagione televisiva di una serie tv, probabilmente una delle più belle che abbia mai visto, che è la sesta stagione, apice, totale, roba meravigliosa. Tocca, tocca dentro, poi io parlo per me, esplora la fantascienza come ho detto, esplora il lato umano, esplora ogni lato della mente umana e della fantasia umana, ci arriva direttamente. e non è così buono, nel senso che è seguita da bambini, è seguita da un sacco di ragazze, è seguita da uomini adulti, meno adulti, da tutti, tutti amano questa serie qua, però non è la serie da fenomeni, non è la serie da Games of Thrones, da Sons of Anarchy, da Breaking Bad, non è questa cosa tough, questa cosa cattiva, cruda, ma non è neanche light, ci sono certe scelte, certe cose che, boom, arrivano diretta, cioè sono dei bei macigni, capito? Quindi non dico altro, dico solo che è appena terminato l'ottava stagione, bellissimo anche il nuovo dottore Peter Capaldi, tornato all'origine, un dottore anziano dopo un attore giovanissimo, espressivissimo attore con il controcazzi, scusate la parola, veramente bravo, esperto, molti lo criticano, ma secondo me non ha senso, è una critica che non ha nessun senso, non serve, rimango dell'idea, se criticate questo tipo di cosa, secondo me non avete capito il dottore, con tutto il rispetto parlando, non è che io sto qui a dire che sono Dio e voi dovete fare quello che dico io, non è così, però secondo me dovete capire il quadro generale e ci sta un dottore di questo tipo, assolutamente, al 100%, io l'ho capito e ne sono pazzo, purtroppo adesso devo aspettare la nona stagione che stanno ancora registrando, detto questo vi saluto per questo speciale un po' serio, un po' diverso dal solito, ma spero vi sia piaciuto, spero che vi abbia convinto per intraprendere ancora una volta questo viaggio televisivo del dottor e vi lascio con, puttana si spacca tutto sotto Dio!